Oggi abbiamo in carico una Golf 8R quindi l'ultima serie delle Golf con il motore più potente quindi questo è un 4 cilindri TSI un 2000 di cilindrata 320 cavalli con 420 Nm di coppia quindi un motore molto molto performante addirittura fai lo 0-100 in poco più di 4 secondi e 6 4 secondi e 7 è una trazione integrale e come tutte le macchine molto performanti dato l'accordo che è stato fatto con tutte le vetture di questo genere è autolimitata 250 all'ora questa è la versione R poi c'è la versione R performance che dalla casa è già sbloccata come limitatore e arriva tranquillamente a 270 all'ora gli interventi che abbiamo fatto oggi sostanzialmente sono di due tipi un intervento legato al motore qua potete vedere appunto il gruppo aspirazione della Eventuri l'abbiamo già presentato su alcune macchine tipo la la nuova RS3 piuttosto che alcune altre macchine è un kit di aspirazione molto performante anche direi sufficientemente costoso che però garantisce dei risultati certi quindi al di là del dell'appagamento estetico è proprio fatto in maniera molto molto bella così come questo coperchio in carbonio diciamo che il look del vanno motore ne ha guadagnato tantissimo ma anche da un punto di vista di performance ovviamente essendo stato studiato da un punto di vista di fluido dinamica l'aspirazione della vettura ne ha guadagnato parecchio e quindi le prestazioni di conseguenza per il momento abbiamo fatto solo la parte di aspirazione la macchina essendo nuova non per il momento non tocchiamo la parte elettronica per non ovviamente avere problemi con la centralina prossimamente su questa macchina ancora lo scarico originale anche lì andremo a verificare le tipologie di scarico disponibili e quindi faremo appunto anche una periodi sullo scarico per il momento la parte elettronica l'abbiamo unicamente gestita attraverso una centralina esterna questa power king che è un'alternativa alla seleton quindi il concetto è il medesimo qua il cliente può staccarla prima di portare la vettura in assistenza ha un guadagno relativamente buono perché abbiamo fatto un calcolo sia molti 35 cavalli e i 50 newtometri di coppia ovviamente nel momento in cui si dovesse fare una mappa specifica via seriale possiamo guadagnare sicuramente in maniera diversa e tarare in maniera più micrometrica quello che sono appunto le modifiche legate all'aspirazione dello scarico quindi parte motore l'abbiamo elencata alto upgrade che ci ha chiesto il cliente è sistemare la parte frenante questi sono dischi di serie da 300 357 sull'anteriore 310 sul posteriore quello che è carente era carente è la mescola delle pastiglie nel senso che l'impianto è sufficientemente sovradimensionato dischi flottanti pastiglie pinza quattro pompanti diametro assolutamente generoso quello che lascia un po' desiderare appunto la mescola della pastiglia che per utilizzi un pochino più spinti va in crisi abbastanza facilmente quindi abbiamo optato per delle pastiglie dell'ABC gialle adesso per il momento abbiamo montato le anteriori si vedono queste saranno le posteriori che monteremo in questo caso l'accoppiamento delle pastiglie gialle su dischi già performanti dovrebbe appunto garantire un upgrade di frenata quindi come impianto frenante il cliente ci ha chiesto fra l'altro la sostituzione dei tubi freno purtroppo fra i nostri fornitori non abbiamo ancora trovato nulla di già fatto quindi l'alternativa è o farseli fare su campione abbiamo una ditta che smontando le tubazioni freno su campione ci realizza le tubazioni in magna metallica o aspettare qualche mese che sicuramente qualcuno dei nostri fornitori metterà a catalogo anche il kit per questa macchina io direi che per questa Golf R e per oggi è tutto come di consueto vi invitiamo a cliccare sulla campanella iscrivervi al canale per darci una mano a divulgare e diffondere sempre di più quello che è il nostro modo di lavorare che comunque vedo che interessa e piace perché comunque dei commenti siamo molto soddisfatti per qualunque informazione ci potete contattare in sede 027383175 da lunedì al venerdì io sono sempre in sede vi aspetto consultate il sito www.9milagiri.it soprattutto nella parte archivi e elaborazione dove troverete più di 3600 schede vettura solo di Golf ce ne sono più di 250 per qualunque informazione io sono sempre a disposizione un saluto alla prossima grazie a tutti